Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books e finalmente anche buon Feminist Friday a tutte e tutti voi Oggi volevo ricominciare la nuova stagione del Feminist Friday, quindi insomma il nuovo anno scolastico con un tema che ha a che fare con il mondo scolastico Come avrete letto dal titolo, infatti il tema di oggi è perché in Italia non si fa educazione sessuale Allora, è un tema abbastanza spinoso che cercherò di affrontare a 360 gradi quindi a partire da che cos'è l'educazione sessuale in questo momento, come viene considerata, eccetera quali sono i benefici dell'educazione sessuale, per poi passare alla situazione in Italia quindi perché non si fa educazione sessuale e quali sono le conseguenze che dipendono da questa grave lacuna del nostro sistema quindi direi di partire La sessualità è un aspetto centrale dell'essere umano lungo tutto l'arco della sua vita Ma non comprende solamente il sesso, comprende anche l'identità di genere, l'orientamento sessuale, i ruoli di genere, l'erotismo, l'intimità, il piacere e la riproduzione La sessualità non è solo ciò che si esprime attraverso il sesso, ma è una sfera molto più complessa Si esprime in pensieri, fantasie, desideri, convinzioni, atteggiamenti, valori, comportamenti, pratiche e relazioni Insomma, la sessualità è qualcosa di molto ampio e molto complesso E sebbene la sessualità possa includere tutte queste dimensioni non di tutte noi ne abbiamo un'esperienza o non tutte ritrovano in noi una vera e propria espressione La sessualità, infatti, è influenzata dall'interazione tra fattori biologici, psicologici, sociali, economici, politici, etici, giuridici, religiosi e anche spirituali Ma arriviamo al punto fondamentale di oggi L'Agenzia di Salute Sessuale Riproduttiva delle Nazioni Unite riconosce l'educazione sessuale nel novero dei diritti umani e ha stilato delle linee guida per le scuole che queste devono rispettare e che includono, oltre alle nozioni di biologia, fisionomia e anatomia umana anche educazione all'affettività, alle relazioni e alle differenze di genere In buona parte dell'Europa si segue quella che viene chiamata educazione sessuale omnicomprensiva o olistica prevista proprio seguendo le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e tratta argomenti come la descrizione della sessualità e della riproduzione umana parlare e discutere dei vari tipi di sessualità descrivere i vari modi per prevenire gravidanze indesiderate e prevenire e proteggersi dalle malattie a trasmissione sessuale capire anche che la nostra sessualità deve rispettare alcune leggi della società civile discutere anche di identità, di parità tra i sessi, di relazione, amore, responsabilità e prendere anche posizioni su questioni legate a temi etici come la gravidanza, come l'aborto l'educazione sessuale non nasce con lo scopo di diffondere una certa ideologia riguardo al sesso, al genere e all'orientamento sessuale non vuole diffondere una particolare posizione culturale, sociale e politica su questi argomenti l'esigenza è in primis quella di rendere i cittadini informati riguardo gli aspetti biologici e medici renderli consapevoli dei rischi che corrono o che possono far correre agli altri o della loro mancata cura o prevenzione permette a chi affronta la discussione su certe tematiche di farsi un'opinione sviluppare una propria posizione culturale riguardo a certi temi e a certi argomenti l'educazione sessuale infatti permette che i ragazzi e le ragazze siano informati e in grado di acquisire gli strumenti per formarsi una propria opinione articolata su diversi temi inerenti alla sessualità e al genere delle persone sull'orientamento sessuale, valutare meglio come prevenire i rischi legati alla sessualità come affrontare l'approccio alla sessualità stessa e come relazionarsi con il prossimo l'Olanda è lo stato europeo che primo fra tutti ha adottato queste linee guide dell'organizzazione mondiale della sanità applica questo metodo fin dagli anni 60 e ha raggiunto grazie a queste politiche il più basso tasso di gravidanze tra gli adolescenti in tutta Europa e tutto questo sembra impossibile nelle scuole italiane soprattutto per ciò che riguarda i ragazzi delle medie e non solo per i ragazzi delle scuole medie l'Italia infatti è uno dei pochi paesi in Europa in cui l'educazione sessuale non è obbligatoria e insieme a noi ci sono dei casi che non andremmo diciamo a considerare proprio proprio paesi sviluppatissimi dal punto di vista economico e sociale in quinta elementare di solito verso la fine dell'anno i bambini della scuola primaria affrontano per il programma di scienze il tema dell'apparato riproduttivo ed è proprio in questo momento che iniziano i problemi moltissimi aspetti della sfera educativa e scolastica sono demandati ai singoli genitori e alle loro scelte tra cui proprio l'educazione sessuale e questo li mette nella posizione di potersi opporre ai corsi di informazione e di educazione sessuale che di solito vengono in genere affidati a delle associazioni esterne che dovrebbero in teoria aiutare i professori nei loro percorsi non sempre però la scelta di queste associazioni è anche affidata a personale competente o di associazioni che si occupano di seguire nei loro percorsi le linee guida dell'organizzazione mondiale della sanità non sempre questi corsi sono affidati a personale competente con delle competenze mediche o psicologiche anzi per farvi un esempio abbastanza inquietante a Monopoli il corso era stato affidato ad un'associazione cattolica antiabortista senza alcun background medico vi lascio immaginare quanto poco abbiano imparato i ragazzi e quale esperienza di terrorismo psicologico hanno vissuto imparando molto poco ho fatto una brevissima indagine tra i ragazzi che conosco e per quanto non sia un numero chiaramente significativo il dato è inquietante ed allarmante a Bologna l'educazione sessuale viene fatta quasi per nulla o molto molto poco e a volte viene incluso una gita di due ore come programma di educazione sessuale in tutto l'anno al consultorio come se queste due ore potessero assolvere tutti i compiti della scuola italiana in due ore si possono imparare molte cose ma non tutte in Italia l'educazione sessuale è fortemente ostacolata da due fattori da un lato dalle famiglie più conservatrici dall'altro dalla chiesa cattolica e spesso questi due aspetti coincidono penso sia superfluo per me dire che questo video non è un attacco contro nell'una nell'altra ma essendo uno stato laico da cittadina pretendo che la chiesa non entri nella formazione dei cittadini Benedetto XVI affermò addirittura che l'educazione sessuale coincide con un'altra minaccia alla libertà religiosa delle persone mettere anche solo lontanamente vicine la parola sesso e la parola bambino per molti è ancora inaccettabile un tabù insuperabile i genitori rivendicano su di sé il compito di educare i propri figli a questi temi come meglio credono principalmente perché reputano la sessualità una questione che ha a che fare con la sfera privata è un tema troppo delicato per delegarlo ad altre persone moltissimi insegnanti sono stati infatti tacciati di spingere i bambini verso il sesso verso la sessualità e verso la masturbazione semplicemente parlando di educazione sessuale e a quel punto agli insegnanti non resta altro che alzare le mani l'AIED invece l'Associazione Italiana per l'Educazione Demografica che è nata nel 1953 con uno spirito laico sostiene invece che l'educazione sessuale deve essere parte integrante dell'educazione civica di ogni cittadino pensare che l'educazione sessuale sia solo e unicamente una questione privata non ha alcun fondamento nelle scienze il sesso infatti non si fa sempre da soli e le scelte educative oscurantiste hanno delle ripercussioni molto significative per le relazioni che noi stabiliamo con l'altro per non parlare anche delle ripercussioni a livello sociale e non è mai colpa dei ragazzi se nessuno ha spiegato loro come vivere una vita sessuale sana e serena o come usare il preservativo non avere la possibilità di distinguere tra il consenso e la violenza di amare chi si vuole e come si vuole di non ammalarsi di non restare incinte prima di aver finito il liceo o di poter esprimere la propria identità di genere sono tutte cose che apparentemente potrebbero essere delegate alla famiglia e potrebbero far parte solo di una sfera personale ed intima ma tutto ciò ha delle ripercussioni molto molto significative anche verso gli altri perché noi rimaniamo persone inserite in un contesto sociale continuiamo a non parlare di sesso come se questo fosse qualcosa di brutto di sporco a nasconderlo sotto il tappeto perché così facciamo finta che non esista eppure tutti fanno sesso tutti hanno delle pulsioni sessuali tutti sono portati a sperimentare in un modo o in un altro con e attraverso la propria sessualità anche solo per conoscere meglio se stessi e ripeto che la sessualità non significa solo avere rapporti sessuali completi con un'altra persona in pratica in Italia si fa sesso ma non si dice ma soprattutto viene vissuto con grande vergogna e come ogni argomento tabù che vive nell'ombra, nell'oscurità del quale non si parla a cavallo quasi tra mito e leggenda praticamente in fondo genera molta curiosità e anche un po' di timore ma cosa succede quando manca l'educazione sessuale? quali sono le vere e proprie conseguenze reali se a scuola non si viene educati e in famiglia rimane un argomento tabù? come sempre poi a sostegno di tutte le mie tesi trovate giù nell'infobox un elenco abbastanza consistente di riferimenti e di bibliografia potete consultare tutti i dati praticamente online quindi se volete informarvi di più trovate tutto giù gli esperti hanno affermato in numerosi studi e rapporti che la mancanza di educazione sessuale o un'educazione sessuale insufficiente porta ad un aumento automatico delle gravidanze in età adolescenziale ad una maggiore quantità di persone che soffrono di malattie a trasmissione sessuale a un aumento dell'incidenza di casi di IDS anche nei paesi che noi non consideriamo del terzo mondo perché è sempre comodo forse pensare che l'IDS e queste malattie molto gravi accadano solo nei paesi in via di sviluppo in Africa, lontano da noi ma ci sono, sono ancora presenti non sono un mito solo degli anni 80 e continuano ad aumentare innanzitutto una mancanza di educazione sessuale significa inconsapevolezza verso una serie innumerevoli di questioni in primis essere informati riguardo alle questioni mediche e biologiche diciamo che tra il conoscere come è fatto l'apparato riproduttivo femminile quello maschile e come si cura una malattia venerea in mezzo dovrebbero esserci tanti altri tasselli e succedono anche un sacco di cose bisognerebbe quindi conoscere cosa sta nel mezzo cosa accade nel nostro corpo quali reazioni stiamo vivendo come funziona e cosa sta succedendo a livello biologico e poi quanto sono importanti le questioni che hanno a che fare con l'ambito medico sapere come prevenire le malattie e le gravidanze indesiderate sapere come proteggersi sapere riconoscere i sintomi sapere cosa chiedere al proprio medico sapere quando è il caso di farsi visitare quando rivolgersi agli specialisti non sono cose banali c'è soprattutto tanta vergogna e tanta disinformazione riguardo a queste questioni che sono essenziali per la sopravvivenza e per il benessere di tutti noi in Italia la vendita di preservativi cala di anno in anno aumentano le infezioni trasmesse per via sessuale come i casi di sifilide che è una malattia che evoca magari l'ottocento ma è ancora molto presente che sono aumentati addirittura del 400% nel 2018 l'educazione sessuale in più non si focalizza solo ed unicamente sull'aspetto di prevenzione e di cura dal punto di vista medico e sanitario quindi non previene soli problemi di salute ma si focalizza anche sulla sessualità come elemento positivo anziché principalmente pericoloso del potenziale umano ma come fonte di soddisfazione e arricchimento nelle relazioni intime e cosa succede quando non viene fatta educazione sessuale a scuola? il secondo punto è quello più semplice forse chi non riceve educazione sessuale chi non riceve informazione chi non può parlare in famiglia di certe questioni di certi dubbi chi non riceve alcun tipo di educazione si rivolgerà all'internet ci sono sicuramente numerosi siti web e creators che si occupano di educazione sessuale di divulgazione che possono fornire sicuramente un aiuto e una delucidazione su alcune tematiche ma non possono sostituirsi mai ai doveri dello stato verso i propri cittadini non possono sostituire la scuola oltre che la famiglia ma questo probabilmente è un parere personale perché io mi ritengo fortunata ad avere una famiglia molto aperta su certi argomenti al di là di questi creators e questi siti web che si occupano di divulgazione in maniera competente l'internet è un posto dove è quasi più facile creare disinformazione creare allarmismi e trovare e reperire informazioni non corrette rispetto a chi dovrebbe essere più autorevole e fornire gli strumenti adeguati non ultimo mai da dimenticare quando la mancanza di informazione si fa sentire nato proprio dalla curiosità e per scoprire alcune informazioni alcuni elementi riguardi al sesso ci si rivolge alla pornografia di per sé la pornografia nasce come mezzo di intrattenimento quindi non ha alcun tipo di accezione negativa fondamentalmente ma è materiale prodotto da e per adulti senza alcun valore educativo nasce come prodotto di intrattenimento e non lo deve essere educativo non è il suo scopo fondamentale ma se diventa l'unica forma di informazione per i ragazzi o una delle poche questo diventa un problema se a guardarlo è un adulto in grado di capire che quella non è la normalità che quelli sono attori pagati per avere un rapporto sessuale davanti a una telecamera che tra loro ci sono accordi firmati su quali pratiche mettere in atto e che la realtà è tutta un'altra cosa non c'è niente di male ovviamente perché un adulto dovrebbe forse è molto molto ottimista comunque un adulto dovrebbe avere le capacità di scindere e capire che quello che sta guardando non è qualcosa di reale ma se un ragazzo o una ragazza che già di per sé sono privi di qualsiasi informazione ed educazione riguardo alla sessualità si approcciano ad una visione del sesso spesso estremo spesso che coinvolge atti di violenza fatto di ammucchiate schiaffi senza avere la possibilità di distinguere tra ciò che è reale e ciò che invece vedono a schermo questo diventa un problema una grossa fetta di ragazzi non potendo reperire informazioni da altre parti si rivolgerà al porno e crescerà con la convinzione che quella sia la normalità ciò che succede su schermo sarà quello che si dovranno aspettare nella vita reale ciò che dovranno perseguire con la convinzione che durante il rapporto non debbano mancare mai atti di violenza come colpire il partner e che quella sia la norma l'educazione all'affettività o sentimentale lavora invece sullo sviluppo della capacità critica e dell'empatia verso gli altri e come la propria sessualità deve essere vissuta nel rispetto in primis verso se stessi ma anche nei confronti degli altri di sentire che l'altro è un essere umano esattamente come lo siamo noi la capacità di metterci nei panni degli altri di capire i suoi disagi il suo imbarazzo o la sua sofferenza non parlare ai bambini degli stereotipi di genere e come questi possano essere smontati o il rispetto verso differenti scelte e orientamenti affettivi o sessuali impedisce la prevenzione verso numerose violenze sofferenze e il possibile sviluppo di una serie infinita di disturbi mentali proprio per il fatto che di sessualità non si può parlare questo crea censura e tabù e condiziona in senso negativo i processi di crescita è stato dimostrato secondo numerosi studi che tra l'altro ripeto trovate in infobox che tra gli studenti che ricevono un'educazione sessuale completa non aumenta la percentuale di frequenza di rapporti sessuali o di attività sessuale in genere tanto meno il numero di malattie sessualmente trasmesse anzi è risultato che comparato ad altri gruppi che non hanno ricevuto alcun tipo di educazione sessuale e che non hanno partecipato ad alcun tipo di programma e numerosi studi rispetto ad alcuni gruppi che hanno ricevuto un'educazione sessuale completa abbiano dei tassi molto bassi di incidenza di gravidanze adolescenziali o comunque in età molto giovane rispetto a chi non ha affrontato in alcun modo educazione sessuale a scuola pensate solo che negli ultimi 30 anni in Italia sono state bocciate almeno 15 proposte di legge riguardanti l'obbligatorietà di educazione sessuale nelle scuole nel 1995 ci aveva approvato il PDS nel 96 Alberto De Simone di Sinistra Democratica insieme a Nichi Vendola nel 99 il leghista Rodighiero nel 2007 Franco Grillini nel 2013 ci ha riprovato Celeste Costantino di Selle proponendo un'obbligatorietà dell'educazione sentimentale e sessuale nelle scuole in seguito ci ha riprovato anche Giuseppina Castiello di Forza Italia a cui è seguita quella frase davvero molto infelice di Benedetto XVI riguardo alla lesa libertà religiosa che vi accennavo a inizio video e nel 2013 la deputata di area cattolica di scelta civica Binetti ha presentato un'inquietante interrogazione parlamentare sul report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per gli standard per l'educazione sessuale ed affettiva definendo il testo un manuale di corruzione per minori interpretazione che è stata smentita ovviamente da tutte le parti e che ha affermato nuovamente l'introduzione di una legge che serve soprattutto per informare i nostri ragazzi e renderci una società consapevole negli ultimi anni invece che parlare dei benefici e in termini positivi di ciò che l'educazione sessuale potrebbe portare ai nostri ragazzi si è preferito focalizzare il dibattito sui pericoli che avrebbe comportato l'educazione sessuale di genere nella scuola pubblica per tutelare i bambini dalla pericolosissima teoria del gender che non esiste raga cioè chiariamolo una volta per tutte la teoria del gender non esiste secondo qualsiasi psicologo sociologo e studioso del campo capisco la propaganda ma la teoria del gender è un'invenzione degli ultraconservatori bigotti peraltro lasciatemelo dire è importante considerare gli effetti positivi dell'educazione all'affettività e alla sessualità che può avere anche su comportamenti o situazioni di rischio quali il bullismo il cyberbullismo e l'omofobia affrontare infatti in questo percorso il tema dell'educazione sessuale dell'orientamento sessuale previene in maniera consistente episodi di omofobia all'interno degli istituti scolastici ma diventa estremamente difficile per gli insegnanti poterlo fare non avendo alle spalle un programma stabilito e condiviso con il ministero che invece che supportarli demanda ai genitori cosa dire se e come farlo infatti attualmente vengono quasi del tutto esclusi dai programmi di educazione all'affettività e alla sessualità argomenti importanti per il benessere psicologico come l'orientamento sessuale e le questioni di genere e dei ruoli l'assenza di educazione sessuale e di un serio dibattito pubblico hanno però conseguenze gravissime e un grave impatto a livello sociale culturale e sanitario per tutto il paese secondo un'indagine della società italiana di ginecologia e ostetricia la sagrande maggioranza delle donne intervistate pensa di non avere informazioni in sufficienza riguardo gli ambiti medico e sanitari dall'altro lato c'è anche una percentuale sempre crescente di persone che afferma di aver reperito informazioni insufficienti o parzialmente errate o del tutto errate e fuorvianti dai mezzi di informazione via internet l'educazione sessuale nelle scuole è efficace se non resta un'esperienza isolata se non sono due ore di visita al consultorio perché una mancata informazione ed educazione dei ragazzi ha un impatto molto forte da un lato sulle conseguenze psicologiche del singolo individuo e quindi anche del singolo cittadino ma anche su aspetti che riguardano una sfera molto più ampia che coinvolgono la coscienza civica di tutti noi maggiori spese per il servizio sanitario nazionale il rischio spesso inconsapevole di infettare e contagiare altre persone trasmettendo malattie sessuali una maggiore incidenza di gravidanze indesiderate ma anche conseguenze psicologiche come una maggiore incidenza di violenza fisica e domestica l'incapacità di relazionarsi con gli altri e di provare empatia per gli altri quindi non percepire il dolore nel prossimo non percepire episodi dove si attraversa una linea invalicabile la soppressione della propria identità di genere o del proprio orientamento sessuale e fenomeni molto gravi di intolleranza verso il prossimo che portano al bullismo e all'omofobia il succo del video di oggi voleva essere un richiamo all'attenzione verso un problema che continua a essere rimandato continua a essere un tema non centrale dell'agenda scolastica italiana che sicuramente in questo momento non sembra prioritario ma che continua ad allontanare sempre di più il raggiungimento di un'educazione sessuale e affettiva di cui tutti noi abbiamo bisogno e che è un diritto dei nostri ragazzi perché diventeranno cittadini di domani che saranno sempre più incapaci di relazionarsi con il prossimo quindi niente io vi invito ovviamente a consultare i dati ripeto che questo non è un video contro una particolare categoria di persone contro una religione eccetera anche se sono innegabili gli effetti che spesso la religione continua ad avere sulla nostra legislazione pur essendo in uno stato laico quando le famiglie non possono sopperire alle mancanze dello stato magari per educazione per impostazione per credo personale è giusto che lo stato intervenga ed è giusto che lo stato renda tutti i cittadini consapevoli senza ovviamente portarli alla sessualità forzata che non è questo lo scopo dell'educazione sessuale perché sapete quanto incide dal punto di vista economico sul nostro sistema nazionale questa mancanza di educazione sessuale non lo volete sapere però se siete interessati trovate tutto nell'infobox niente io spero che questa puntata del Feminist Friday vi sia risultato interessante voglio sapere anche quali sono i vostri pareri per esempio se voi avete ricevuto un'educazione sessuale a scuola o in famiglia e come questo magari ha cambiato le vostre prospettive oppure il fatto di non avere fatto mai educazione sessuale in che modo vi rende più dubbiosi riguardo a certe questioni soprattutto dal punto di vista medico o ha ritardato lo sviluppo di alcune consapevolezze dentro di voi io sono molto contenta di essere tornata con i Feminist spero di rimanere sempre consistente e niente io direi che per questa serie ci vediamo forse a qualche venerdì e per tutto il resto ci vediamo al prossimo video grazie mille grazie mille